Ma siamo entrati con paura, no contratta. Ho già parlato con i ragazzi, ho detto che la responsabilità me la prendo io, perché in questo momento si sentivano carichi di responsabilità, magari col cambio di allenatore, pensavano di dover risolvere tutto loro, ma non è così. In questo momento è venuto fuori un aspetto mentale molto importante, che bisogna lavorarci sopra. Poi abbiamo preso, a parte il primo tempo, che abbiamo fatto malissimo, non male. Abbiamo preso un gol dove l'avevamo studiata e quindi abbiamo preso un gol che si poteva evitare. Poi nel secondo tempo siamo rientrati molto meglio, stavamo facendo meglio, e abbiamo preso un gol in netto fuori gioco, che ci ha ritagliato di nuovo le gambe, ed è venuto fuori di nuovo la paura, e lì la partita è finita. Mi dispiace di questo, non più che altro per i tifosi, per la gente che è venuta oggi allo stadio. L'aspetto principale in questo momento è quello di ritrovare innanzitutto la serenità mentale per cercare di fare risultato. Di solito quando si cambia allenatore c'è una scossa, in tutte le squadre accade questo. Oggi nel Pescara la scossa non c'è stata, anzi c'è stato un vistoso passo indietro sul piano del gioco, anche rispetto alla gara di Cittadella. Poi ti chiedo, come mai la scelta del 4-2-3-1 e non per esempio del 4-3-1-2? Molti pensavano che potessi far giocare il Pescara con quest'altro modulo. Ma voi quando parlate di modulo, tutta la settimana avete detto 250 moduli, no? Io non mi sono impazzito e mi presento in una squadra cambiando tutte le giocate. Giocare 4-3-1-2 significa cambiare tutto, giocare totalmente diverso, ci vuole del tempo e il tempo non ce n'ho. Ho cercato di mettere giocatori nel proprio ruolo come Falco, che è un giocatore che può giocare dietro la punta, anche se oggi è stato servito poco, ha dato poco, però è un giocatore importante lì e quindi ho cercato di mettere giocatori per cercare di fare il meglio possibile. Però oggi possiamo parlare di modulo, di quello che volete, ma se l'atteggiamento è questo possiamo giocare a 5, a 6, a 8, non cambia niente. Dobbiamo ritrovare la serenità, la voglia di fare, oggi non l'abbiamo fatto e purtroppo abbiamo perso meritatamente, nonostante nel secondo tempo i primi dieci minuti prima del gol di Ceravolo che era in fuori gioco, c'erano dei presupposti per recuperarla, però è andata così. Non so se Epifani è d'accordo, avete sofferto soprattutto al centrocampo, riproporrà comunque sia Brugman che Valzania davanti alla difesa? Vediamo, vediamo perché questa partita mi è servita tanto anche per vedere alcuni aspetti, però ripeto in questo momento l'aspetto principale è ritrovare la forza mentale, che è difficile ma bisogna farlo, ho già detto ai ragazzi nello spogliatoio che il capo sono io, la responsabilità è la mia e loro devono ritrovare la serenità mentale e dare quello che sanno dare perché secondo me abbiamo dei giocatori che possono aiutarci a far bene. Martedì Massimo si torna subito in campo, questa gara con il Carpi che a questo punto diventa davvero molto importante, è forse un bene tornare subito a giocare fra tre giorni? Ma sicuro, già da adesso non bisogna più pensare a quello che abbiamo combinato oggi perché se pensiamo a quello che abbiamo combinato oggi martedì non ci presentiamo. Oggi la dobbiamo cancellare subito e dobbiamo cercare di avere una reazione sotto l'aspetto mentale cercando di fare una grande partita martedì per riprendere il cammino. Grazie a tutti.